Pollo caput mundi Prepari un telelaboratore Venga ha trovato il dungeon Ma guarda ancora Io qui Ok Da notare che abbiamo due picconi di diamante e uno di ferro Davvero? Si Aspetta dai quello di ferro Ma non ha senso Dammi a me quello di ferro Aspetta ordiniamo un attimo le ceste Dov'è tutto il carbone? Fatemi le torce Eh aspetta che si Nella cesta in alto ci sono i materiali C'è di un po' di organizzazione Buttiamo tutti i materiali Sono in quella in alto i materiali Si ho capito Vi servono torce? Eh si io ci sono una spalla alimentare Ci sono due stack di carbone Dobbiamo star lì noi A dirti c'è E torce dal piccone di cose Vado giù a scavare come uno schiavo Eh grazie c'è Vado anch'io e ti aggiungo C'è del ferro per farci una spada? No Il ferro? Ma non c'è nessuna spada in ferro Non ce lo manco io Ma faccio il pietro allora Oh ma c'è ancora la tua barca da lei Sai non despauna quella Tanto ferro È tornato lo schiavo Ok io ho trovato il ferro intanto Sento anche tanto Oh bene così potremmo dire di avere più ferro che diamante Le diamante l'abbiamo finito quindi Ma si ma intendo perchè Oh ho trovato il dungeon Con diamante abbiamo fatto due piccoli Con ferro abbiamo fatto un piccoli Ho trovato il dungeon No è una corticella per me Venga decida bene ho trovato il dungeon Oh non c'è ferro però Venga zia Venga zia Venga zia Redstone Redstone acqua Si ho trovato un bel dungeon c'è Dov'è che sei? Adesso vi faccio vedere Sei nel tuo tunnel? Si si è nel mio Nel tuo tunnel da schiavo Nel mio tunnel Da schiavo Da schiavo Aspetta fai una cosa Fai una cosa intelligente Ti do il ferro E vai a fare un shit E questo è il tuo tunnel lì E questo è il tuo tunnel Sennò io lo schiavo Ah no sennò ho legno per fare craft No non ho legno per fare craft No non ho legno per fare craft Avete some food? Si è yep yep Io ho due Aspetta No c'ho anch'io C'ho anch'io No mi bastano le Le cosine di piccoli Ma se noi facessimo una farm no eh Eh infatti magari Eh separiamoci Dividiamoci Ma quasi quasi vado su A prendere i semi e farla fare Ecco appunto vai su te Mi do il mio piccolo Oh mio dio che bello Lo volete il piccolo di ferro? Eh ma si Tiene l'uterno Abbiamo quello di diamante Perché c'è così tanto Granito Andesite che mi stanno Tanto curando Eh che dopo tiriamo l'inventario Oddio Cos'è? Acqua Sono qua Squid girati Guarda dove arrivo io Sì aspetta un attimo che sto scavando l'ossidiana Salvi Salvini Salvi salvi No ma intendo un bello stack sano di cobblestone Non c'è Eh sì Ce l'ho io un stack di cobblestone Ho 37 più 35 Tu sei su Un 64 Sì un bello stack sano Aspetta che mi metto qua a scavare un attimo Sì io ce l'ho un bello stack sano Però serve a me Sano? Sì sì trovo Sì è sano perché sennò gli viene al raffreddore Perché? Sennò gli viene al raffreddore Perché il mio al raffreddore è il mio stack Ah ok Eh sì Per trovare il villager medico Come cosa succede? Il villager medico Eh però è un po' strano perché d'estate è raffreddore Oh guarda a me è venuto Non dire niente Sì Io invece ho l'allergia L'allergia Ah sì me lo ricordo è vero Già sì Da The Kaizo Caverns Già Sono a 5 di ossidiana Se hai 5 di ossidiana Ah perché stai già spaccando l'ossidiana? Sì voglio arrivare a 12 10 per il portale E 2 per... No aspetta 4 14 Sì è vero Aspetta che ti voglio mandare una mano che in due piccoli si spacca più velocemente Davvero? Sì Facciamo che io ne faccio No no vabbè basta Guarda uniamo le forze Ma hai messo qualche cosa che non possono ottenere i semini? Oddio scusa No Eh sì no Ok forse ne spacchiamo uno diverso Una domanda Dica La strada per tornare a casa la sai? Io? Certo Eh C'è zio? Con chi invece mi sto parlando? Con un navigatore satellitare Fea 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 Oh ho trovato dell'oro Ferro Sempre ferro troppo Ma va bene così E' cosa buona e giusta Venirmelo a dare al sito no Eh aspetta faccio la farm ho detto Ah o li fa giusto Ah o li fa giusto Sì Però se mi serviva sai Sì Diamanti ancora Ma no 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 Ma no 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 Ma no 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 C'è 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 Davvero? Sì Eh ma non ce l'ho due Appena trovo il terzo vi dico What the fu Ah Già Ma dai No Ce l'ho spaccato un rock Non l'avevo fatto il culo Ma guarda ancora Io quinto Quattro hanno trovato Sono a quattro No rientro perché voglio Preparate quando venite su a vedere la farm Che bella del mondo No ma erano lì Ricordiamo che i primi li avrei trovati anch'io Erano lì in parte Erano lì in parte ragazze Si vede che Si sono scollegati Ma non so quale motivo Cioè sarebbero stati qua Ma sì perché volevano essere trovati da me Ah Capisco Quattro comunque no Quindi possiamo fare un piccolo incandale Sì Una palla Magari no Ma la palla magari no Ma no magari li teniamo per qualcosa Ma si li teniamo per fare la zappa Ah ok perfetto Vabbè li teniamo per fare la cosa Il tavolo degli incantesimi Ah si Meglio ancora Cos'è che è? Meglio conosciuta come un chanty Ah nel tavolo Uh Ci sono gli zombie infuocati Sento un pollo Vabbè io no Ehi Pollo Altro ferro Magari uno zombie sopra il pollo Eh può darci Sento un Edeman io Ma sai di oscarlo Anche il pollo c'è Pollo caput mundi Sai che io me ne andrei di qua Andrei in cerca di un village Per le patate Oh guarda un che bel creeper C'è via le ragnotele C'è via le ragnotele Eh lo zombie te dropper No non ce l'ho Ma scompa Oddio Tipo c'è Oddio Slender man Mi preoccuperei Sì Ale ha appena visto un Tipo ho aperto la porta c'era il creeper lì Dopo ho girato il coso è scomparso Eh dovremmo torciare fuori Alex è accadene Eh Ed è un porto Oh Il banco ogni volta che nasce Guarda Collegamento Collegamento Beh non arriverò mai Collegamento ragazzi Ma io sto salendo le scale No no io sto salendo Le scale Sto tornando No 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 Dov'è il creeper? No 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 Perché te ne Perché sei uscito Perché mi s... Bango di volta che sono Mi hanno bloccato, mamma mia, la proagine, la proagine, la proagine Oh ciao, aspetta, non posso aprire le casse, vedi sono buggato, ma mi vedi? Io è certo che ti vedo, eh non posso aprire le casse Cioè è certo che questa farm è proprio, il pollo, 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 aiuto, aiutatemi, ho trovato un pollo Aiuto perché ho trovato un pollo, eh sì perché ho bisogno dei semini Ale Dov'è il pollo? È qua, l'ho chiuso Nella, perché? Perché un pollo è una cosa? Non so, l'ho trovato in un danno il pollo, 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 pollo Spesso, faccio un attimo un'altra zona in cui mettere tutta sta roba Cosa? A mettere la farm, intanto Ho trovato anche una bella zona Allora è troppo figo questa casa Torno indietro con Cosa hai fatto? Ho 38 diamanti Eh, ho messo, ne ho messo 81 perché l'altro ce l'ho nel secchio Ok E la fronte d'acqua è finita, la spostiamo Devo venire a prenderti, Simo Ragazzi, ho 38 diamanti, siete venite con un semino? Quanto te guardate? 38 diamanti? No, non lo so, riferro, ferro Ah, no, perché è tipo Ok, forse era Basta, non gioco più a Minecraft Come un episodio di 38 diamanti Non basta Hashtag io smetto di giocare a Minecraft Server buggati Non so più da dove sono arrivati Oh no, che te ho trovato E dopo dicevano che questa isola faceva cagare Effettivamente fa cagare Sì, come paesaggio su fuori, sì, molto Oh, vabbè Io voglio cercare un'altri endermen Allora, vieni, vieni, vieni Con cosa? No, vabbè Con una spada e basta Torna indietro O con qualcos'altro Torna indietro No, dimmi se devo venire con qualcosa Ah, devi venire con i semini? Semini? Sì, per il pool Li ho piantati tutti i semini Per il pool Vabbè, li puoi anche spaccare Eh, ma non volevo, volevo il grano Vabbè, vengo Ma cosa ti rifai del pool, poi? Cosa me ne faccio del pool? Eh, no, no, eh, sarebbe anche cibo infinito, sai Eh, ho capito, ma se ce ne andiamo di qua Vabbè No, vabbè, allora fai Comunque sto venendo Fai meno, fai meno, fai meno Come ce l'ha già di qua? Ed è questa... Bisogna di merda Schifoncata Che però ci ha fornito diamanti Cosa? Perché c'è un ragno? Perché c'è un ragno? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo è la zappa Nessuno ha zappato Avete buttato l'acqua? No, l'acqua... Eh, ho fatto qua io di nuovo la fonte infinita Anche? No, perché mancavano delle torce No, le fai meno, rimani su, rimani su Eh, allora vieni, tu sei Oddio, anche l'oro hai trovato Ah, vabbè, ho trovato anche Squidward Facciamoci una mela d'oro Perché? Vabbè neanche la mela Ti vorrei far buttare Eh, vabbè... È giro Sono io quello lì Ah, sì, sono io Come si? Perché stavo con un altro schermo E vedevo quello che saliva Venga qua che le do il piccone nuovo Sì, sì Ma ti dà le cose con lui Sì, sì, ti dà Vado qui dentro, guardate C'è un cane Il piccone, il piccone, il piccone Il piccone Il piccone, il piccone Taccate! Lo sai? Te lo ho lanciato... No, dietro di te! Te lo ho lanciato preciso preciso Guarda dove te lo dà Dopo di notte spostiamo la zona dei letti Perché qua sto facendo l'affare No, perché intanto... Anzi, sono l'affare qua Eh, sì Chi è che ha la zappa Inizia a zappare tutto questo Mi ho fatto due, io Zappatemi Ok Direi che per questo episodio... Aspetta No, 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 no Mi sono buggato Mi sono abbattato Direi che per questo episodio... Direi che per questo episodio... Direi che per questo episodio possiamo concludere la... Quindi se avete lasciato anche un commento Mettete mi piace Fai seri Volevo far notare il creeper sopra la colina No, 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 no Ho ancora i diamanti Ho ancora i diamanti Lei mi capisce Oddio, che culo Vedi che io calcolo tutto qui Stavo dicendo se vi è piaciuta sul commento Mettete mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo nel prossimo episodio della Shadowcraft Quindi... Bella ragazzi Saluta... Ah, comunque ciao ci sono anch'io Eh, stavo dicendo... Ho detto saluta... Non ti calcoliamo Mi dispiace Vorrei far notare il lavoratore cilio F2 Quanto lo pari? Poco e niente F2 Chi? Ah, io No, no Cos'è successo? Cos'è successo? Avevo un livello Piccadino Aveva anche la spada inferno C'è no Vorrei fare notare quello proprio Ok, per tutti ragazzi io sono Anghisus e oggi ci ripetano con Star Wars 3 Black Aces L'ultima volta vi ho lasciato col Suspense a mille Perché dovevamo Combattere contro Jack Corp In realtà Però... A me piace fare così Ok, quindi oggi siamo pronti per sconfiggere Eh, sarà abbastanza complicato Ma io non mi rendo Poi Poi La saldarei Saldarei